Ok, questo tutorial lo facciamo per descrivere questo software open source mix, questo software lo possiamo usare per mixare le tracce, è una soluzione open source rispetto alle soluzioni commerciali per il mixing non ne nominiamo perché già le abbiamo sentite nominare diverse volte, questo è mix e oggi faremo questo tutorial per descrivere appunto le caratteristiche principali, possiamo vedere a sinistra, a destra il deck, questa è una skin che abbiamo scelto si chiama late night, questa skin si presenta così, le altre skin sono diverse, si possono scaricare dal sito mix.org, diverse skin, si possono anche fare le proprie skin, essendo qui nel mondo dell'open source è possibile prendere i file, modificarli e fare la propria skin, questa skin di default per me va molto bene, abbiamo appunto la vista delle due tracce una sotto l'altra, faremo adesso un piccolo tutorial dove mixeremo due tracce, vedremo come si effettua un mixaggio veloce su mix, procediamo col mixaggio, abbiamo già caricato una traccia sul nostro deck qui a destra, la traccia che state ascoltando in sottofondo a sinistra sta per finire, siamo pronti per il mixaggio, quindi nulla, andiamo a sfumare l'audio della canzone che è della soundtrack in questo caso che è sottofondo al nostro video e andiamo a premere play sul deck numero 2. Ok, abbiamo lanciato il nostro pezzo che vogliamo mixare con un altro di un genere simile, possiamo fare un preascolto premendo questo tasto e impostando dalle preferenze della scheda audio, quale vogliamo usare come sistema audio e quale scheda utilizzare, scusate, e quali canali utilizzare per la connessione dell'audio, possiamo usare gli input diversi come il controllo dei vinili, con il microfono, eccetera, come vi dicevo prima le skin, le interfacce si trovano qui, l'internet è quella che stiamo usando noi, tutte le modifiche che si possono fare al programma, le impostazioni delle preferenze, trasmissione live, controllo dei vinili, possiamo inserire fino a 4 vinili, scegliere quale tipo di vinile, quale scheda stiamo usando, micvibes, tractor, scusate, tractor scratch, serranto cd, eccetera, possiamo mettere tutte le configurazioni, ma torniamo qui al nostro mixaggio, inseriamo una canzone sul dext sinistro, io ho un preascolto, mandiamo il crossover tutto a destra, solleviamo il livello dell'audio, io ho il preascolto sulle cuffie, quindi riesco a sentire l'audio della canzone che devo premixare, voi non siete in grado di riuscire, di sentirla, la sento solo io sulle cuffie, ok, siamo vicini al mixaggio, abbiamo scelto quest'onda, di partire da quest'onda, vogliamo sincronizzare il pezzo, perché vogliamo garantire che il pezzo sia appunto perfettamente in singh, premento singh, 70, 140, vediamo se è accettabile, si, sembra che si possa accettare, ok, lasciamo andare un po' ancora la traccia, tra poco eseguiremo il passaggio, lanciando il brano. Ok, comincio ad aprire il livello della traccia, comincerete a sentire anche voi quello che sentivo io prima con le cucchie, possiamo giocare un poco con le frequenze, apriamo e chiudiamo una frequenza, basso, medio, alto, avessimo i vinili collegati, col tasto destro possiamo settare questo potenziometro alla posizione centrale, selezioniamo i vinili, se vogliamo gli spin, li deselezioniamo, li selezioniamo, vogliamo avere un preview delle tracce, lo abbiamo qui, mixer, lo vogliamo disattivare, attivare, l'equalizzatore, farlo vedere o no, quattro deck, potere attivare, ecco quattro deck e quattro potenziometri lineari, il passaggio eseguito è nulla, questo è Mix, software open source per effettuare mixaggi professionali da DJ con la stabilità e la sicurezza dell'open source, vi lascio ai nostri prossimi video, una buona serata a tutti grazie a tutti